250 piante di marijuana dalle quali si sarebbero ricavate almeno 12.000 dosi che, vendute al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbero fruttato non meno di 50.000 euro. E la scoperta, è il caso di dirlo stupefacente, fatta dai finanzieri del gruppo di Barletta che, nel corso di un servizio di controllo nelle campagne di Trani, hanno individuato una coltivazione di cannabis. Le piante erano state nascoste all'interno del capannone di un'azienda agricola incontrata a Casa Rossa, destinato alla custodia di macchinari ed attrezzature agricole che ne rendevano difficile l'accesso. Nel deposito era stato ricreato un perfetto microclima, grazie alla presenza di un potente deumidificatore ed un complesso sistema di lampade alogene, termometri digitali e ventilatori. L'impianto era in grado di fornire alle piantine la luce ed il calore necessario per consentirne una rapida crescita. Nella struttura, le fiamme gialle hanno rinvenuto inoltre una bilancia ed un macchinario dotato di buste e rotoli per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. Il proprietario dell'azienda agricola, un andrese di 48 anni, è stato arrestato.